Ciao amici sportivi, benvenuti qui sul secondo canale, ormai è ufficiale Fabio Oliverani è il nuovo allenatore del Parma Calcio è arrivata finalmente l'ufficialità che tanto aspettavamo ma è una notizia che in realtà girava già da un po' di tempo ne avevamo anche già parlato qua sul canale sia in live che per l'addio di D'Aversa della scorsa settimana Carli l'ha scelto, ha scelto lui come allenatore, la sua figura è stata quindi scelta per il dopo D'Aversa ed è una figura completamente diversa rispetto al nostro vecchio allenatore, per quale motivo? perché se D'Aversa era un contropiedista, Oliverani invece è un allenatore che predilige il gioco tecnico il possesso palla e diciamo il gioco orizzontale piuttosto che il gioco verticale alla D'Aversa e questo comporta il fatto che sicuramente ci saranno degli innesti diversi, degli acquisti per cercare di realizzare il gioco alla Liverani e delle cessioni per evitare il gioco contropiedista è molto probabile che venga ceduto Scozzarella che giocava sempre in verticale è molto probabile che venga ceduto Gerbigno per il contropiede, era la persona perfetta per cui ci saranno diciamo dei cambiamenti, lo vedremo all'interno del calcio a mercato o comunque lasciamo fare a Carly che è il suo mestiere quindi sicuramente lo farà molto bene ci sono già anche un paio di acquisti forse quasi ufficiali come Collei e Traoree dall'Atalanta vedremo un attimino poi quando arriveranno davvero e saranno ufficiali vedremo di analizzare bene questi acquisti ma da parte tutto cosa ne penso di Liverani? vi ho già detto tempo fa più o meno cosa ne pensavo secondo me Liverani è sì un allenatore molto capace ne parano veramente un gran bene ha vinto anche la panchina d'argento l'anno scorso come miglior allenatore però secondo me c'è un grosso però c'è un grosso però e cioè ragazzi l'anno scorso con il Lecce lui pur di far vedere che il Lecce sapeva giocare bene a calcio piuttosto perdeva le partite 3-0, 4-0 come niente perché a lui non interessava diciamo la vittoria a tutti i costi quindi uno sporco 1-0 col catenaccio e il contropiede di solito magari come può aver fatto Juric come può aver fatto qualche partita anche da Versa no lui non interessava questo lui più che al risultato guardava al gioco espresso e secondo me è molto pericoloso giocare in questo modo con una squadra che deve puntare la salvezza se fossimo una squadra tranquilla dal punto di vista del diciamo dei nomi quindi con calciatori interessanti un po' in stile Fiorentina, un po' in stile Torino ecco quei calciatori da metà classifica, metà alta classifica allora ci potrebbe stare magari puntare al bel gioco più che alla salvezza ma se sei una squadra che invece quest'anno come ha detto anche il presidente del Parma Pizzarotti punta alla salvezza è un po' rischioso perché la salvezza la devi ottenere in tutti i modi possibili in maniera sporca, vincendo le partite 1-0 giocando malissimo ma l'importante è portare a casa i tre punti è vero un allenatore che dei tre punti gliene frega molto meno rispetto al bel gioco ripeto è molto molto rischioso adesso è diventato il nuovo allenatore del Parma quindi io do piena fiducia a Liberani è normale che gli arriveranno tantissime critiche che se per il bel gioco farà perdere tanti punti al Parma però se ci farà divertire quindi con vittorie e possesso palla alla Barcellona beh allora lì esploderebbe davvero uno dei possibili più grandi allenatori dell'ultimo ventennio adesso sto sparando per dire visto che ne parano talmente tanto bene da fargli vincere anche la panchina d'argento è normale che adesso penso che se dovesse giocare talmente tanto bene guadagnando anche tanti punti facendo un'ottima stagione con il Parma e allora per lui si aprirebbero delle porte veramente interessanti su questo non ci piove su questo non ci piove però se da dire una cosa prima di chiudere a Parma già uno era venuto per portare il bel calcio per portare qualcosa diciamo il calcio dal divertimento ed era marino non è andata benissimo con lui ecco quindi io direi piccolo consiglio piedi per terra puntiamo ai 40 punti e poi dai 40 punti in poi ci si diverte al gran possesso palla alle grandi azioni io farei così ma vedremo comunque che cosa deciderà il mister e come verrà gestita la rosa magari perché no vedremo il calcio champagne vedremo un Parma stellare magari incrociamo le dita Fabio Fabio parlo con te Liberani parlo con te un po' come diceva il buon Serse Cosmi Liberani Liberani parlo con te mi raccomando smentiscimi a riguardo cioè fammi vedere veramente il bel calcio fammi vedere fammi divertire quest'anno smentiscimi perché sono un pochino scettico sul tuo arrivo sono un po' scettico lo ammetto ma smentiscimi sono pronto a farmi smentire fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi dell'arrivo di Liberani tra l'altro ci sono un po' di problemi riguardo allo staff perché il Lecce non vuole cedere lo staff di Liberani non lo vuole lasciare andare c'è una situazione un po' complicata lì ma vedremo se si risolverà o meno ditemi cosa ne pensate ragazzi di Liberani cosa ne pensate di Liberani a Parma e cosa ne pensate della situazione attuale in generale creiamo la nostra solita area di discussione grazie mille per aver visto questo video un saluto ciao a Papirus e in bocca a lugo al nuovo mister Fabio Liberani grazie mille per aver guardato il video